Buongiorno, sono Mirko Carrattieri, direttore generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Il nostro istituto, nato nel 1949 per conservare le carte della Resistenza, è stato fondato da Ferruccio Parri, di cui porta nome dal 2017, grande comandante partigiano e primo presidente del Consiglio dell'Italia Liberata. Ovviamente quindi siamo particolarmente legati alla data del 25 aprile, anche se l'Istituto nel corso degli anni si è trasformato in un istituto di storia contemporanea che si occupa di tutto il Novecento dal punto di vista della conservazione, ma anche della ricerca, della didattica e della divulgazione. Crediamo che anche nel 2021, tanto più nella situazione di pandemia, sia importante ricordare la data del 25 aprile 1945, che segna non solo la fine della Resistenza, ma anche la fine della guerra e di vent'anni di dittatura fascista. Si tratta di qualcosa di ancora molto importante per tutti noi, che fonda la nostra identità e la nostra democrazia. E quindi, con gli strumenti propri di un istituto di ricerca, riteniamo utile lavorare per ricordare questa esperienza. Lo facciamo con diversi progetti, tra i quali mi piace ricordare il portale Recompart, cioè il portale Partigiani d'Italia, realizzato insieme con l'ICAR, il Ministero della Cultura, che raccoglie le schede ufficiali delle commissioni di riconoscimento dei partigiani del dopoguerra. Oltre 500.000 schede che abbiamo digitalizzato e inserito in un database al servizio di tutti i cittadini. Quindi, buon 25 aprile a tutti da parte dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri.